attenzione ragazzi perché questo è uno smartphone che crea dipendenza quindi se siete deboli di cuore non lo provate parliamo del lenovo p2 un battery phone ma direi anche il battery phone per eccellenza ne ho provati tanti io zenphone 2 max ulephone power eccetera eccetera 5.000 6.000 mAh di batteria davvero di tutti i tipi e devo dire che come questo non ce n'è ma non ce n'è per tanti motivi non per solamente per la batteria che è veramente spettacolare ma perché veramente un compromesso per cui avete una batteria super ma non avete uno spessore tanto tanto accentuato non avete per esempio ukitel k 10.000 che era veramente pesantissimo questo 180 grammi perfettamente accettabile quindi quello che avete in mano è un telefono quasi normale certo un po pesantino non sarà il samsung s7 edge diciamo molto molto più leggero è un po pesantino un 5 pollici e mezzo ma la batteria vi dura tranquillamente due giorni con uso veramente molto molto intenso se non lo usate molto io per esempio ho fatto oggi è lunedì l'ho acceso sabato mattina e stiamo ancora al 30 35 per cento quindi dopo due giorni pieni probabilmente ci riesco a fare anche un'altra giornata perché sabato e domenica non uso molto lo smartphone che dire veramente spettacolare ma oltre all'ergonomia oltre a tutto il discorso batteria c'è anche il discorso equilibrio di sistema uno snapdragon 625 che diciamo un telefono octa core medio gamma che si comporta anche bene in compiti più complessi quindi anche lato gaming che dire un gran telefono iniziamo a parlarne un po dettagliatamente iniziamo a parlare della confezione all'interno troviamo carica battita da 2 ampere e cavo di tipo micro usb non abbiamo qui il protocollo tepsi e all'interno della confezione un comodo adattatore otg quindi vi serve per attaccare una chiavetta usb ad esempio al vostro telefono ma anche per farlo diventare una power bank per un altro telefono quindi molto molto interessante anche questa features allora questa è la colorazione oro devo dire un po troppo pacchiana preferisco sicuramente la colorazione nera abbiamo alluminio nella parte posteriore quindi anche i materiali sono ben curati abbiamo la fotocamera completamente a filo come vedete non si non sporce proprio per niente è giusto così anche perché è un po spesso non molto spesso però un po spesso lo è non sarebbe stato ovviamente pessima scelta di mettere una fotocamera che usciva parte anteriore con led di notifica in alto a sinistra tasto fisico che integra il sensore impronte digitali un senso impronteggiare molto buono diamo un 8 su 10 di sblocchi non velocissimo ma devo dire per questo telefono come è giusto insomma non è il migliore sensore impronteggiare che ho mai provato però devo dire è buona la percentuale di sblocchi che venivano successi devo dire si usa tranquillamente insomma non è che dopo un paio che lo usate si chiamava bella lo disattivo perché perché non mi piace tutto il telefono è percorso da un frame in metallo eccolo qua anche lavorato abbastanza bene parte inferiore con lo speaker di sistema e di qua abbiamo lo slot per una nano sim e il supporto dual sim un'alternativa un'espansione memoria con micro sd è interessante questo tasto però avrei preferito metterlo programmabile perché in pratica è un tasto che quando lo andate adesso li sblocco e faccio vedere anche che funziona perfettamente insonazione impronte digitale questo è un tasto che va direttamente niente premo anche di qua ecco qua con questo tasto passate in premia in super saver mod diciamo una modalità di risparmio energetica estrema come vedete vanno attivate ovviamente non le funzionalità smart del telefono quindi whatsapp eccetera eccetera ma unicamente telefono contatti potete mettere orologio calcolatrice eccetera eccetera quindi diciamo vi diventa un telefono poco smart ma come vedete viene estesa la durata della batteria quasi all'infinito vedete non molto intelligente come cosa nel senso siamo su un battery phone io prendo un battery phone perché perché mi di durare tanto se vado a usare questo insomma perde un po il senso ecco quindi e oltretutto vista la durata della batteria veramente non vi servirà mai questo tasto quindi avrei preferito qualcosa di programmabile magari che ci potevi mettere l'esclusione della suoneria o qualcosa del genere qualcosa diciamo che che uso più spesso ecco magari o magari programmabile semplicemente abbiamo parlato un po del design andiamo a parlare della rom perché perché questo telefono arriva con questa rom ecco qua è la vibe ui ma potete selezionare ovviamente la versione android in questo caso ecco qua vedete abbiamo il normale app drover qui al centro da selezionare però devo dire molto più interessante la modalità vibe ui torniamoci eccola qua in questa modalità facendo swipe verso l'alto ecco qua abbiamo una sorta di ricerca app in cui in pratica abbiamo l'app drover ecco qua vedete quindi in pratica potete scegliere tutte quante le app che volete in alternativa tutte le app sono qui nella nella schermata home in stile mi ui abbiamo tutta la suite completa della delle applicazioni google non abbiamo un lettore musicale devo dire a me non piace molto quando non trovo un lettore musicale quindi dovremo usare il google play music e dovremo usare anche google foto perché non abbiamo una galleria vedete non c'è proprio l'applicazione galleria nel nelle applicazioni disponibili quindi usate un'altra applicazione oppure dovete usare google foto devo dire non mi piace molto questa scelta se proprio devo andare a dire qualcosa però va bene così insomma hanno scelto loro molto interessanti invece le modalità di personalizzazione di questa vibe ui abbiamo proprio un centro temi tutto avete la possibilità di togliere e mettere le applicazioni anche direttamente nella barra di sistema questo è il centro dei temi ci sono temi ovviamente da scaricare sfondi eccetera eccetera addirittura potete cambiare il dialer quindi insomma devo dire abbastanza carino è un po da implementare ecco potete scegliere varie modelle anche del compositore quindi ci sono tante tante personalizzazioni ma tante personalizzazioni stanno nel menu impostazioni perché ci sono gesture ci sono ecco una cosa interessantissima interessante la funzionalità del tasto home perché vedete facendo uno swipe qui in basso trovate i pulsanti a schermo come sono molti schermi che io personalmente odio perché tolgono una parte dello schermo oppure potete disattivarli con questa con questa con questa freccetta in giù e utilizzare il tasto home il tasto un tasto anche fisico ma anche touch quindi in pratica se voi state che ne so impostazioni altre ecco qua facendo un un touch sul sul pulsante si torna indietro se invece lo premete tornate all'home se lo tenere premuto ma senza premerlo se ci mettete il dito sopra ma senza premerlo vi compare il gestore attività e se invece lo tenete premuto vi compare il google search quindi funzionalità prese dall'em touch di mezzo lo sappiamo benissimo abbiamo visto tante volte l'em touch di mezzo ovviamente sono riprese ma riprese veramente molto molto bene e con questo tasto controllate tutto quanto il telefono e anche questo crea dipendenza ragazzi ve lo dico ci vuole qualche giorno per impararsi un po questa funzionalità ma poi veramente crea una dipendenza assoluta riuscite a fare tutto con questo con questo tasto un'altra cosa interessante ecco qua se andate ecco qui nella barra delle notifiche e premete questa questa orologio in pratica vi dice tutti quanti tutte quante le notifiche che avete avuto quindi se voi avete cancellato un whatsapp cancellato un sms non vi ricordate quale gru in quale gruppo era potete andare in questo log di notifiche e andarlo a cercare ovviamente ma tante tante funzioni ecco qua andiamo a vedere il menu funzioni due volte il tasto volume per scattare una foto anche a schermo spento la riduzione del telefono ovviamente tantissime possibilità una cosa molto interessante l'ambiente segreto se noi lo andiamo ad attivare ecco qua in pratica abbiamo un altro telefono che non dialoga col col precedente per cui se noi adesso andiamo qua ecco qua su internet e possiamo andare che ne so sui sui messaggi che ne so cercare i centri massaggi poi quando andremo ecco qua andiamo a trovare ecco qua su bacheca i centri massaggi cinesi quando poi andate invece sull'altro telefono che avevate torniamo usciamo dall'ambiente sicuro andiamo nell'ambiente normale quello che potete far vedere anche a vostra moglie in questo caso se andate ecco qua vedete andiamo su tutta un'altra cosa che sta un'altra cosa quindi i due i due ambienti non dialogano potete tenere applicazioni potete tenere foto in un ambiente c'è unicamente una cartella che dialoga fra due ambienti che vi può servire per scambiare delle foto dall'ambiente all'altra abbiamo detto che è un telefono delle buone prestazioni andiamo a vedere quindi antutu punteggio siamo intorno ai 63 mila quindi un telefono medio gamma di fascia alta come abbiamo visto zenfone 3 qualche tempo fa infatti abbiamo anche qui lo stesso processore processore snapdragon 625 che è un processore octa core a 2.0 gigahertz schermo full hd o amoled 5 pollici e mezzo 1080 per il 1920 devo dire molto molto buono 4 giga di ram 32 giga di rom devo dire la configurazione è chiaramente un telefono di medio gamma ma fra i migliori medio gamma che ci sono ecco qua questo mi chiamo adesso e lo chiudo dopo lo richiamo il telefono è chiaramente un telefono medio gamma quindi non stiamo parlando di telefoni che possono rivaleggiare con samsung s7 anche e soprattutto a livello di fotocamera adesso ne parliamo approfonditamente che devo dire però in generale un telefono molto molto equilibrato quindi può abbracciare può soddisfare una larga fatta una larga fetta di clienti e di utenti passiamo a vedere la fotocamera eccola qua allora devo dire buona non ottima ovviamente perché non è un camera forma un batterifon quindi abbiamo una fotocamera che in pratica qui ecco qua vediamo un po se riusciamo a metterla un po fuoco allora abbiamo la sezione automatica della scena quindi possiamo attivarla o disattivarla e lui capirà se state facendo una macro se state facendo un paesaggio qualsiasi altra cosa queste sono diciamo le funzionalità abbiamo ovviamente la fotocamera professionale in cui tutto quanto è come vedete più da selezionare manualmente gli iso il bilanciamento del bianco eccetera eccetera che dire una buona fotocamera da sette sette e mezzo ovviamente non è una fotocamera da otto ma non è un camera phone un batterifon e devo dire per quanto riguarda la fotocamera io sono rimasto ovviamente abbastanza soddisfatto poi ovviamente ci sono tutti quanti tutte quante le foto da scaricare sul sito e potrete decidere voi stessi se vi soddisfa oppure no infine parliamo di questa batteria da 5100 mini ampere davanti e spettacolare vi ho detto con un uso veramente molto molto intenso quindi gaming telefonate internet eccetera eccetera riuscite tranquillamente a farci due giorni di utilizzo se non è così intenso l'uso arrivate tranquillamente ai tre giorni di utilizzo quindi veramente vi trovate la mattina ecco mai mai succede anzi la sera vi trovate di che faccio lo ricarico il telefono oppure no ma vabbè dai non lo ricarico tanto veramente una cosa che mai successa con i smartphone non mi è mai successo anche ecco con batterifon abbastanza pesanti come Zenfone 2 come Ulefone Power a fine giornata arrivo sempre con quel 30 per cento che magari ricaricavo perché 30 40 per cento che magari ricaricavo comunque in questo caso non ne avete bisogno che dire veramente un bel telefono crea dipendenza vi ripeto perché adesso ecco cambierò andrà tornerò al telefono normale che devo stare attento alla battita mentre vi leva un pensiero ecco molte volte uno esce esce da casa magari arriva alle 18 alle 17 dice mannaggia non posso tanto usare non posso fare quel gioco perché mi va giù la batteria e non arrivo a fine serata eccetera eccetera e questo telefono vi toglie tutti questi pensieri e nel frattempo avete un telefono altamente performante molto molto buono fotocamera che forse raggiunge il 7 7 e mezzo ma devo dire tranquillamente equilibrata insomma se proprio non avete necessità fotografiche eccezionali a me è piaciuto molto vai bui che forse qualche sistematina gliela darei mettere un bel elettore musicale mettere una bella applicazione galleria e poi siamo a degli ottimi livelli continuate così il nuovo che sta facendo dei bei lavoretti e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao